Marco, la PU All World West Udine questa sera è riuscita a qualificarsi per la semifinale, una semifinale che ha voluto e che sembrava sfuggirle di mano anche quest'oggi. Cosa ha funzionato in maniera particolare in quei secondi finali? Onestamente è stata una serie veramente intensa, questa è stata la partita più incredibile della mia vita, non ho mai giocato una partita del genere, così intensa sì ma non così rocambolesca con cambi di risultato da una parte e dall'altra e ovviamente è l'ultimo nostro vantaggio che ci ha portato alla vittoria. Sapevamo che non sarebbe stata una serie facile perché Trapani, anche se ha rotazioni corte, comunque giocatori di grande qualità e grande esperienza di questo campionato. Però noi non volevamo far gara 5 in tutti i modi, volevamo chiuderla qui in Sicilia per concentrarci meglio sulla semifinale. Adesso il prossimo avversario sarà Givova Scafatti che vi avete già incrociato sia in Coppa Italia che nella fase a Gironi. Una vittoria come quella di stasera quanto vi carica in vista di un avversario così importante? Ma ci carica stasera e domani, poi da martedì iniziamo a lavorare su Scafatti che sarà un'altra serie veramente tosta e dovremo recuperare al massimo le energie perché anche se siamo una squadra lunga per questa serie abbiamo speso veramente tanto e quindi vedremo di preparare e di giocare la miglior serie possibile. Grazie 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 Grazie